Il Consiglio Comunale di Napoli, presieduto dal Vicepresidente Fulvio Frezza, si è riunito oggi in Via Verdi, alla presenza di 24 consiglieri. Dopo l'appello iniziale sono intervenuti ai sensi dell'articolo 37 i consiglieri Matano, Movimento 5 Stelle, sul rapporto Ispra sulla qualità dell'ambiente urbano che denuncia la gravità dello stato delle strade di Napoli, e Matteo Brambilla, sempre dei 5 Stelle, che ha affrontato il tema delle dimissioni della ex Presidente della Mostra d'Oltremare, Donatella Chiodo, una manovra politica da offerta speciale, così l'ha definita il consigliere. Alla fine si è dimessa la chiodo e cosa succede? Adesso verrà nominato un nuovo amministratore e il consigliere delegato poi dovrà essere sicuramente con la parità di genere, che significa che se dovesse essere nominato un presidente maschio il consigliere delegato Oliviero dovrebbe fare le valigie e dovrebbero mettere al suo posto una consigliere delegata femmina. Le voci che girano giornalistiche sono che appunto la chiodo, visto che Oliviero non si voleva dimettere, si è dimessa a lei per poi rientrare come consigliere delegato alla Mostra d'Oltremare, lasciando la presidenza a Nardi, che verrebbe dalla città metropolitana, a sua volta lascerebbe la poltrona a Rinaldi, poltrona che verrebbe ricoperta solo per la parte politica, perché non avrebbe il potere di firma in città metropolitana. Questo è semplicemente un poltronificio, il poltrone fa un baffo a questa amministrazione, si creano poltrone e poltronifici. E dal 2 gennaio Maxi Cantiere interesserà l'area di Chiaia e della riviera di Chiaia, lavori che a detta dell'amministrazione dovrebbero finire da cronoprogramma per settembre. Ma molti, soprattutto i commercianti, sono preoccupati che ci si possa ritrovare davanti a una nuova via marina, tra questi anche il consigliere Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli. Non si finisce mai, ormai, io lo dico da anni, siamo stagi di questi cantieri, cantieri di cui la città ne ha bisogno, perché sono cantieri che riqualificheranno la nostra città, quartieri interi. Spero che questa benedetta linea 6, prima o poi questi lavori per la linea 6 avranno il termine e verrà consegnata questa benedetta infrastruttura del trasporto alla città di Napoli.